Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news, nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Torniamo a parlare del DLC Awakening in arrivo martedì 2 febbraio su Call of Duty Black Ops 3. La Treyarch e Activision hanno rilasciato il primo trailer dedicato alla mappa Gauntlet che potremmo trovare appunto nel DLC Awakening che contiene appunto la mappa Gauntlet, Splash, Rise, Skyjacket e il pacchetto mappa Dare and Dracke per la modalità Zombies. Gauntlet è una mappa molto particolare perché è ambientata in un campo di addestramento militare. Classica mappa stile Treyarch con una struttura a tre rotte e una qualità definita nelle visuali e negli scontri. Ciascuna di queste tre rotte principali è molto particolare perché ognuna ha un'ambientazione caratteristica. I giocatori infatti potranno combattere in una giungla selvaggia, in una zona artica, praticamente quindi con una temperatura sotto lo zero e addirittura in un piovoso paesaggio urbano. Quindi una mappa spacchettata in tre ambientazioni. Quindi sarà veramente curioso vederla giocata perché passeremo dal ghiaccio alla pioggia, alla vegetazione. Quindi qualcosa veramente di unico e particolare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa mappa Gauntlet contenuta nel DLC Awakening in arrivo martedì per Call of Duty Black Ops 3. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.